C'è un orecchio che funziona qui nel territorio Salernità? Sì, abbiamo istituito la sezione Falchi, una sezione che già esisteva nella tradizione della squadra mobile e che abbiamo recuperato creando un giusto connubio tra coloro che ne avevano fatto parte e coloro che aspiravano ad entrarvi, che abbiamo preso soprattutto dall'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico e in questo ringrazio pubblicamente la collega che lo dirige perché mi ha aiutato molto nella scelta. Non un controllo, si diceva in conferenza, di determinati reati ma anche un orecchio sul territorio, una possibilità di riprimere anche eventuali casi di microcriminalità. L'indirizzo è proprio quello, l'aspetto repressivo perché l'attività di indagine e l'attività investigativa ha una componente tecnica imprescindibile ma una componente pragmatica nel senso di recuperare notizie che provengono dalla strada, che non necessariamente sono notizie che arrivano da sfere di carattere criminale, da contesti criminali ma anche dalla gente comune che può fornire delle utili indicazioni per individuare gli autori di fatti reati. Spieghiamo quello che è accaduto sabato perché poi tutto è arrivato materialmente. Sì, attualmente vi è una persona sottoposta a fermo di PG in quanto sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti per la commissione di una rapina in danno ai due minori avvenuta in Piazza della Concordia. Aveva stata una segnalazione tempestiva da parte della Sala Operativa della Questura, un intervento altrettanto tempestivo ed efficace da parte dei falchi che erano in zona. La città di Salerno dal punto di vista della repressione come risponde? È caotica oppure sta migliorando rispetto agli ultimi anni? No, è una città che come tutte le città ha delle sue criticità e noi è il nostro dovere parametrarci e offrire alla cittadinanza i giusti moduli repressivi per poter garantire quella tranquillità tale per poter fruire dei diritti civili dei cittadini. Grazie. Io sono convinto e spero che sia sufficiente come risposta che la prevenzione da solo non basti, che c'è necessità anche della repressione perché reprimere un reato significa anche prevenirlo per il futuro, arrestare una banda di rapinatori significa poi la diminuzione delle rapine. E per fare questo c'è bisogno di personale in borghese che abbia professionalità all'interno della mobile. L'obiettivo è questo, volevamo degli occhi, delle orecchie, la nostra mente all'esterno fra il cittadino che possa capire, frequentare i locali dove normalmente i pregiudicati si associano perché noi possiamo poi investigare su questa agenda e dare una risposta anche in termini di repressione. L'idea viene da lei o da Niglio? No, l'idea è mia, lui è stato ed è un grande collaboratore che ha creduto a questa cosa. Io ho un minimo di esperienza anche io come squadra mobile nel passato e devo dire che questa cosa ha funzionato. A me la non hanno insegnato. Sto copiando l'idea di qualcun altro più bravo di me.